ragazzi oggi andiamo a vedere un argomento molto delicato che però in tantissimi ci avete chiesto quindi abbiamo pensato di fare un video ad hoc anzi che poi è il secondo video sull'impianto elettrico che facciamo questo è fatto bene però ma qui abbiamo fatto veramente tantissime modifiche per renderci indipendenti per 3-4 giorni in libera quindi senza muovere la macchina e abbiamo fatto un impianto totalmente rimovibile senza fare modifiche all'auto quindi adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio e nel frattempo stiamo... cosa stiamo facendo noi? siamo qui sul tettuccio che aspettiamo che il pannello solare vada a ricaricare il tutto per il primo test ecco il nostro d'occhio da 100 watt saranno sufficienti come potenza? quali soluzioni avremmo scelto? ma adesso le andiamo a scoprire una per una riteniamo l'impianto elettrico un argomento molto delicato perché come al solito non abbiamo assolutamente utilizzato una soluzione standard ma ci siamo inventati di tutto e di più e fatto un sacco di casino infatti abbiamo scartato a priori qualsiasi circuito o impianto prevedesse un collegamento fisso con la batteria motore motivo? beh perché siamo un po' sadici e ci piace complicarci la vita ma soprattutto perché volevamo realizzare un impianto elettrico molto semplice e di facile realizzazione abbattendo i costi quindi abbiamo fatto un sistema un po' più complesso da ragionare ma molto più semplice da condividere con te che se sei come noi e hai voglia di camperizzarti la macchina in completa autonomia puoi evitare di passare da autoinstallatori senza dover ricertificare niente e soprattutto abbattendo i costi e poi perché vogliamo essere in regola il più possibile quindi è vietato fare modifiche strutturali all'automobile per questo motivo abbiamo utilizzato le prese originali dell'auto quindi ricarichiamo mentre siamo in movimento in più un pannello solare fa tutto il resto però andiamo a vedere nel dettaglio il come e perché la prima cosa da fare per dimensionare un impianto elettrico di servizio è capire qual è il nostro consumo medio giornaliero quindi che servizi andiamo a utilizzare, che dispositivi elettronici andiamo a utilizzare, quanto consumano e di cosa non possiamo fare proprio a meno ad esempio se riusciamo a far andare tutto a 12 volt sarebbe molto semplificativo se invece qualcuno ha bisogno di un fondo per asciugarsi i capelli ci tocca fare con la 220 diventa un'altra cosa vero amore? io ho eliminato il problema alla radice vado di turbante va bene e allora andiamo a scoprire di cosa questa carovana non può veramente fare a meno una cosa importantissima per noi è il frigo perché ci permette di variare un po' la dieta cioè non è che possiamo sempre mangiare scatolette di tonno sarà meglio e poi anche i video sarebbero molto noiosi se noi mangiassemo solo del tonno questo ci riporta al pc che dobbiamo caricare costantemente perché oltre ai progetti di autocamperizzazione a distanza che vogliamo continuare a fare anche in viaggio ma anche la creazione dei video quindi l'editing e tutto questo ci porta a tutti gli arnesi che dobbiamo caricare tramite usb tipo il gimbal, l'action cam, le luci, power bank, tutte queste cose molto elettrificate e necessarie soprattutto fra un po' arriverà anche un drone piccolo spoiler ma con tutta sta roba ci vuole una centrale nucleare per tirare avanti la baracca pensavamo e invece è tutto qui in realtà conti alla mano è sufficiente attrezzarci con una batteria da 70 ampere e fare un impianto a 12 volt anche perché ragazzi dopo 4 giorni in libera finiamo l'acqua e quindi problema ben più grosso quindi bisogna muoversi lo stesso e dal momento in cui partiamo con la macchina ricarichiamo di nuovo il tutto fantastico sulle batterie ci sarebbe da parlare per ore volendo sintetizzare vi basti sapere che è sufficiente una batteria AGM al gel la nostra ad esempio è un 70 ampere ora vi lasceremo poi il link in descrizione ma fate attenzione deve essere una di quelle a scarica profonda fatta apposta per essere una batteria da servizio indovinate un po' tipo quelle dei camper classico eh o quelle della nautica anche quelle sarebbero perfette quando dicevamo di non tirare nessun cavo intendevamo dal vano motore ma dal sedile passeggero al baule certo che vanno tirati questi cavi vanno nel baule e servono per collegare la batteria di servizio al pannello di controllo in questo momento siamo sotto al lavandino e siamo nel retro bottega del controller vi faccio vedere tutti i collegamenti come li abbiamo fatti io sono un po' nerd e mi sono messo lì a saldarli tutti col soldatore a stagno la cosa figa è che quasi tutti i componenti si riescono ad attaccare semplicemente con dei fastion quindi con una buona pinza e un po' di forza nel polso si riesce a stringere tutto e collegare senza problemi molti direbbero che 70 ampere sono un po' pochini e in effetti non sono tanti ma è proprio per questo che abbiamo scelto di fare l'impianto a 12 volt quindi abbiamo fatto un gran lavoro di ricerca per trovare tutti i dispositivi elettronici compatibili con la presa accendisigari e per tutti intendo tutti dal frigo al caricabatterie per il cellulare tutto deve essere a 12 volt in questo modo si può evitare l'inverter e quindi diminuire un po' i consumi e gli sprechi e far andare un po' durare un po' più a lungo anche una batteria non troppo grande come quelle da 70 ampere in realtà è perché quella da 100 costa un botto e soprattutto pesa il doppio di quella da 70 quindi noi vogliamo fare anche una cosa leggera ed economica cerchiamo di ottimizzare un po' l'efficienza e quando intendiamo tutto intendiamo proprio tutto anche il caricabatterie per il computer a 12 volt la cosa che consigliamo è sempre tenere tutto removibile quindi anche frigo e servizi collegarli tramite Faston in modo da poterli smontare agevolmente senza l'utilizzo di cacciaviti questo sempre per quel discorso di rimanere in regola e sì lo sappiamo questo è uno di quelle accelle di Peltier fa un po' schifo come rendimento ma ha di pro che rimane piccolo poco ingombrante e alla fine anche abbastanza efficiente sì di base noi abbiamo già questo quindi per quest'anno non lo cambiamo vedremo poi l'anno prossimo se decideremo di fare un upgrade ma visto che abbiamo questo ce lo teniamo bravo amore pratica così ti voglio una volta scelta la batteria i componenti il tipo di tensione da utilizzare si passa all'installazione dei componenti e questo va fatto in maniera molto efficace andando a nascondere tutte le cose in base alla loro utilità ad esempio la batteria una volta installata e collegata non ha più bisogno di essere toccata quindi la si può andare a imboscare in un posto nascosto in modo che non rompa le balle con l'utilizzo dell'auto camperizzata esatto anche se questo comporta metterla sotto il mio sedile e quindi potrei esplodere ma va tutto bene volevo ringraziare i ragazzi di due pazzi in caravan perché mi hanno rincuorata facendomi scoprire che le batterie non esplodono ma si infuocano quindi la mia morte sarà lenta è molto infernale dolorosissima non è questione di fiducia in te è questione che la batteria è sotto di me cioè non è questione di fiducia non è che tu sei la batteria se tu fossi la batteria sotto di me ci sta ma comunque volevo dirti che le batterie non si incendiano né esplodono basta collegarle bene ma lo so dai io scherzo e allora passiamo alla parte più divertente dell'impianto elettrico quella meno esplosiva ovvero il controller e il pannello di gestione ragazzi quanto è fico sì mi piace da matti vogliamo parlare delle madonne che abbiamo tirato per arrivare a farlo così diciamo che abbiamo avuto qualche botti becco ieri però alla fine è venuto un gran bel lavoro sì diciamo che avevo progettato tutta un'altra cosa poi dopo l'è ho già avuto l'idea di design adesso me la tiro perché ho avuto un'idea vero Vu? sì non potevi farvi venire ieri quando ti ho chiamato a vedere se ti piaceva l'idea no? Nico ha fatto un bellissimo impianto lì tutto bene con l'impianto elettrico da mettere nella struttura dell'armadio che è lì comunque ne parleremo la prossima settimana dell'armadio so di fatto che a me è venuto in mente che sarebbe un pochettino più bella averla nella cucina così che è tutto tutto più comodo tutto lì vicino comodo e quindi ho detto ma perché non andiamo a metterla qui che copriamo anche la bacinella che non è che sia proprio neanche troppo bella eh perché? perché Nico ha detto oh non c'avevo cosa l'idea di design montato lì nella cucina con anche le canne di bambù al traverso rispetto per creare ancora più movimento e senso di godimento nel cucinare è un cambio di pattern vabbè tornando alle questioni tecniche abbiamo messo i pulsanti per gestire ogni singolo utilizzatore quindi abbiamo le prese che sono poi queste qua le possiamo disattivare in modo da essere sicuri da non sprecare neanche un milliampere di tensione di corrente abbiamo l'altra presa quella in cabina l'acqua la pompa dell'acqua che sarebbe poi questa e il frigo poi qui abbiamo la 12 volt quindi la presa per l'accendisigari mentre qui abbiamo delle altre prese usb cioè ne abbiamo tantissime due quattro quindi dovremmo essere a posto con le usb sempre dal pannello di gestione parte anche il cavo per collegare il pannello che al momento abbiamo spostato quindi non è più sul tetto che l'abbiamo liberato ma l'abbiamo messo qui di fianco anzi accendiamolo visto che così continuiamo a caricare la batteria questo è un dochio 100 ampere ne abbiamo già parlato in un altro video ma che vi linkiamo qui se per caso vi interessa però ci troviamo molto bene uno di quelli flessibili quindi quando andiamo di solito lo teniamo sul tetto così carica anche mentre andiamo e invece quando ci fermiamo lo spostiamo in base un po' al sole certo adesso c'è la mia ombra però se mi tolgo dalle scatole vedete proprio la potenza che sprigiona il nostro super d'occhio in realtà questo pannello ha un piccolo problema ovvero si sporca abbastanza facilmente quando si sporca cala la tensione e quindi bisogna usare la spugna spesso vabbè si pulisce dove è il problema e anche per rapporto qualità prezzo è il migliore che abbiamo trovato sul mercato e dopo un anno di utilizzo non ci si può sicuramente lamentare assolutamente la cosa bella è che dal controller si può vedere l'attività del pannello solare quindi quanto carica sta spingendo a bestia sta spingendo si possono anche gestire vari tipi di batteria ci sono tutte le varie impostazioni e infine la cosa che ci è piaciuta più di tutto è che si possono attivare direttamente i servizi dal controller quindi anche se io facessi andare tutto quindi accendiamo il frigo accendiamo l'acqua accendiamo le prese nel momento in cui non voglio più collegare nulla posso anche direttamente staccare alla fine anche in una macchina siamo riusciti a infilare tutto e infrattarlo in posizioni abbastanza comode accessibili tranne la pompa dell'acqua quella gran zocco la zucchina della pompa dell'acqua ci sono anche bimbi che guardano tipo il piccolo gabri ciao piccolo gabri ci staremo attenti alle parole è tipo quella zucchina della pompa dell'acqua che è imboscata là dietro ma è a dir poco fondamentale perché con quella riusciamo a farci la doccia e lavare le cose avendo le mani libere e i piedi quasi vero Amora? andiamo a vederla? dai che ve la facciamo vedere no non è una mini anti uomo quello in realtà è il nuovo interruttore della pompa elettrica del nostro lavandino guardate come viene giù bene l'acqua un altro giro simpatico è quello per arrivare alla pompa dell'acqua che è qui dietro nascosta micro più bassa rispetto alla tannica in modo da avere più potenza e mandata e poi che non avete visto la doccia quello ve lo facciamo vedere nel primo free camping che facciamo a proposito di free camping hanno detto che sembra che si riapra l'Italia a fine aprile se è così noi a maggio ci facciamo una settimana in giro non si sa bene dove per testare il tutto appunto per un tempo un pochettino più lungo perché poi a giugno via ciao si parte facciamo tutta l'Italia bye bye a tutti bye bye reggio Emilia il pannello solare senz'altro è una figata e ci aiuta per tutto il tempo che stiamo fermi in libera però abbiamo studiato anche un sistema un circuito per andare a ricaricare ancora più velocemente quelle poche volte che andiamo ad accendere il motore cioè ogni tanto dobbiamo fare acqua e quindi nel momento in cui la macchina si accende riceve una quantità di corrente quasi tripla rispetto a quella che produce solo il pannello solare ma vi faccio vedere come abbiamo fatto siamo nell'abitacolo e qui c'è la parte creativa del circuito elettrico quindi abbiamo realizzato una presa accendisigari truccata che adesso vi facciamo semplicemente vedere qua sotto vi avevo detto che abbiamo incastrato proprio tutto 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 questo è il nostro accendisigari tarocco quindi abbiamo messo un po' di componenti elettrici per andarlo a rendere sicuro e andare e poter prelevare la corrente dalla macchina solo quando in movimento grazie all'interruttore per andare a ricaricare la batteria servizi onde evitare di scaricare la batteria motore se dovessimo dimenticarci l'accesa ci piace un sacco perché tutte le macchine sono dotate di un accendisigari con una presa 12 volt e con questo sistema per quanto ancora un po' rudimentale si può andare a prelevare in modo sicuro la corrente dalla batteria motore e andare a ricaricare quella a servizi al vano posteriore si inserisce si accende la macchina rischio esplosione scongiurato attivando l'interruttore vediamo che si illumina la luce led e sta a significare che la batteria di servizio sta ricaricando e sta assorbendo energia ricaricando non sta ricaricando sta ricaricando non sta ricaricando questo metodo è molto semplice però ha qualche difetto nel senso che non è possibile prelevare abbastanza corrente dalla batteria principale tramite la presa di accendisigari perché sono protette da fusibile quindi non possiamo andare ad assorbire tutta l'energia che servirebbe a fare una ricarica in tempi brevi alla batteria di servizio di conseguenza ci siamo giocati l'asso nella manica ovvero dopo un po' ci siamo resi conto che il Mokka ha un inverter integrato e tra l'altro molte macchine moderne presentano già una spina 220 per poter attaccare carichi fino a 150 watt abbiamo fatto due conti un caricabatteria da macchina funziona con meno di 150 watt e quindi ci siamo detti ma perché non andare a montare direttamente un caricabatteria al circuito originale e così abbiamo fatto guarda nell'Opel Mokka la presa per i servizi è posizionata dietro ai sedili di guida nella colonina centrale 230 volt massimo a 150 watt e tra l'altro è posizionata veramente comoda rispetto alla nostra batteria servizi vogliamo parlare del caricabatteria da auto è una soluzione che ci ha permesso di risparmiare un fracco di soldi questi baracchini qua costano una ventina di euro hanno un ottimo rapporto qualità prezzo se ne trovano ovunque anzi adesso vi lasciamo il link in descrizione con un investimento udite udite di una ventina di euro possiamo andare a ricaricare la macchina in tempi rapidi tra l'altro la potenza di questa si va a sommare alla potenza del caricabatteria e quello che abbiamo attaccato alla 12 volt e insieme vanno a spingere con una potenza totale superiore agli 8 ampere dentro la batteria quindi con un investimento di 20 euro per un caricabatteria e più 5 di componenti elettrici abbiamo fatto un doppio super caricabatteria che in meno di 4 ore ricarica completamente una batteria da 70 ampere ora non so cosa ti stai chiedendo e se la mia macchina non avesse la presa 220 ragazzi nessun problema ci sono i cinesi che inventano cose spaziali tipo un mini inverter da attaccare direttamente alla sendisigari con il quale si può andare a succiare 150 watt all'uscita anzi questo è da 200 si è vero noi ce l'abbiamo la 220 però me fidmia a Samai meglio avere sempre qualcosa di scorta si sa mai che l'EUG si debba asciugare i capelli perché facciamo una sera di gala quando siamo in campeggio quindi meglio essere attrezzati via o comunque sei riusciti a far vedere tutto l'impianto elettrico senza neanche prendere la scossa è andata bene ci è andata molto bene questa volta ma se avete dubbi o avete altre domande scriveteci nei commenti oppure in privato siamo sempre contenti di rispondere e chiacchierare ma soprattutto di condividere idee per trovare nuove soluzioni quindi ci fa un sacco piacere scoprire cosa state combinando noi vi teniamo aggiornati su cosa combiniamo e quali sono le nostre prossime avventure e ci troviamo on the road a proposito di condivisione ringraziamo tutti i ragazzi del gruppo facebook tenere dotate campeggio e Piero e famiglia per gli adesivi grazie mille perché ci teniamo a ricordare che è anche grazie a voi che abbiamo trovato tutti questi spunti per poter sviluppare il nostro circuito comunicazione di servizio sul nostro sito campupmycar.com a breve uscirà un articolo di blog anche questo tutto sull'impianto elettrico dove andremo ancora più a fondo e dove linkeremo anche tutti i componenti che abbiamo utilizzato così che se lo volete riprodurre anche voi vi possa tornare semplice o speriamo o nel caso ci scrivete e vi aiutiamo si conclude così l'impianto elettrico ma siamo pronti a procedere con il prossimo step che sarà spoileriamo l'armadio non vedo l'ora lunedì prossimo vi l'ho tenuta per ultima posta così rimaneva tutta sulle spine siamo a fare l'armadio e dopo di che ormai ci siamo è rimasto forse solo da caricare il tutto e poi si parte ragazzi facciamo da Reggio Emilia fino alla Sicilia non sappiamo quali saranno le tappe le inventiamo al momento come vengono anche in base ai vostri consigli magari ci ospitate magari vi va ad incontrarci magari si sta un weekend insieme una qualche grigliata due braciole quello che viene insomma qualche nottata basta la carovana sempre e detto questo ci salutiamo intanto e ci vediamo lunedì prossimo ciao ho salutato anche dalla parte giusta ciao 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 Grazie a tutti.